buongiorno la puntata di memento smile di oggi dedicata alle città che si vedono nei quadri il tema di oggi mi è stato suggerito da un mio caro amico il sociologo urbano pierpaolo zampieri e quindi io lo ringrazio naturalmente per avermi dato l'occasione per sviluppare questo argomento sarà una discussione divisa in più parti perché di fatto il tema è molto molto gustoso molto appetitoso allora mettendoci quasi a tavola partiamo dagli antipasti per passare i primi secondi su su fino al dolce la prima portata le prime portate di questa discussione saranno rappresentate naturalmente delle origini e cioè le origini dell'antichità per partire in questo ragionamento in questo discorso non possiamo fare altro che rifarci alla città per antonomasia vale a dire roma come tutti sappiamo roma è detto anche l'urbe urbs il latino e l'urbe naturalmente è la città per eccellenza però bisogna specificare bene questo termine che ancora oggi in italiano tra l'altro si usa i latini chiamavano urbs solo roma solo la città di roma e tutte le altre città che appartenevano alle province e che addirittura sono state fondate seguendo il modello urbanistico della capitale noi non conosciamo l'esatta etimologia di questa parola cioè non sappiamo effettivamente urbs da quale parola provenga però c'è un verbo in latino che il verbo urvare che che sta per significare l'azione di tracciare un solco di fare proprio una linea sul terreno come bene ricordate la leggenda vuole che romolo mitico fondatore della città di roma abbia tracciato il solco per delimitare lo spazio della città che viene detto il pomerio il recinto sacro questa è un'azione di fatto rituale a tutti gli effetti anche perché ci sta pure il delitto ci sta pure la vittima sacrificale e la vittima sacrificale è il gemello di romolo remo perché remo muore perché di fatto sorpassa il limite del recinto sacro è in armi questo provoca la reazione di romolo che per difendere le leggi di questo nuovo spazio sacro lo spazio della nuova roma lo uccide e in quest'atto c'è insieme la delimitazione dello spazio della città come spazio del potere come spazio sacro e l'inibizione alla violazione delle leggi che sono il fondamento di roma ora roma è una città che ha fondato come tutti sapete una repubblica è poi un impero millenario ma i romani sono stati anche quelli che hanno divulgato la cultura della città in tutta europa l'arte dei romani non è certamente la pittura e nella scultura non che loro non abbiano i romani dico non amavano la scultura e la pittura ma sostanzialmente l'hanno parimenti copiata e assorbita e fatta fare da da uomini greci schiavi greci in contingenza con i modelli greci l'arte dei romani è soprattutto l'architettura e nell'architettura che i romani hanno dato il meglio della loro inventiva della loro creatività con opere come per esempio gli archi gli acquedotti che ancora oggi sono ancora in mezzo a noi sostanzialmente sono ben saldi e le intemperie nei terremoti sembrano scalfirli però questo nostro ragionamento ci interessa come la città viene rappresentata come i romani a questo punto rappresentavano la città e per farlo per fare questo dobbiamo iniziare questo con questo nostro viaggio questo nostro pasto culturale attraverso alcune opere io ho scelto come prima opera la forma urbis severiana il nome non deve fare paura perché non si tratta di una poesia in esame tri latina leggere e che non me la leggerò perché non voglio ammazzarmi piuttosto la forma urbis severiana era una grande un enorme lastra di marmo composta da 150 lastre che si trovava all'interno delle sale del tempio della pace vicino dalle parti del foro di vespasiano aveva delle misure monumentali 13 per 18 metri ora di questa di questa forma urbis che sostanzialmente è una pianta della città di roma conserviamo 1186 frammenti e se vi interessa c'è anche una ricostruzione via web che è stata portata avanti dalla stanford university di california chi fu a commissionare questa e chi realizzò questa questa pianta naturalmente il imperatore settimo severo tra il 203 e il 211 dopo cristo questa lastra si trovava all'interno del tempio della pace come vi dicevo e di fatto oggi noi straordinariamente in con quelle sincronicità che e quei lasciti bellissimi che sono frequenti nella storia noi ancora oggi possiamo vedere la parete in cui era collocata questa enorme pianta marmore della città di roma si tratta sostanzialmente della parete esterna lato fuori di vespasiano della chiesa dei santi cosma e damiano che tra l'altro è anche la casa generalizia dei frati minori di frati san francesco questa piccola parentesi che un po ci porta avanti nel discorso però in qualche modo ci fa assaporare tutte queste connessioni che già da adesso con questi discorsi cuceremo cuciremo intorno ai nostri ragionamenti sulle città perché questa cosa rappresentava questa questa città questa pianta rappresentava tutti gli edifici di roma con alcuni edifici più grandi di altri proprio per sottolineare l'importanza naturalmente era in scala una scala sostanzialmente fedele però era anche oltre che una pianta una sorta di manifesto un manifesto di un modo di organizzare di pensare e di guidare lo spazio che tipico della civiltà romana della civiltà imperiale infatti questa questa pianta è geometrica razionale non ci sono gli uomini ci sono solo le iscrizioni che segnalano i vari edifici e quindi è uno strumento di potere uno strumento legislativo sostanzialmente per inquadrare per visualizzare lo spazio in cui agisce il potere dell'imperatore ed essendo roma fondamentalmente la madre dell'impero è uno spazio per visualizzare il fulcro stesso e quindi tutto l'impero ed è singolare ed è molto importante che questo in realtà non è affatto una scelta casuale ma volutamente l'imperatore mise questa enorme lastra di marmo all'interno del tempio della pace proprio per simboleggiare quella serenità ormai raggiunta sotto l'agenza severiana ma non esiste soltanto una visione non esiste soltanto una visione pubblica della città una rappresentazione pubblica della città nell'antichità romana noi abbiamo un altro modo di vedere lo spazio della città per assaporarlo dobbiamo fare un po una magia cioè dobbiamo fingere di essere in un'altra epoca e quindi chiudiamo gli occhi e torniamo al 78 dopo cristo facciamo finta di chiamarci publio fagno sinistore e avere una bellissima villa a bosco reale vicino napoli a 20 chilometri da napoli quindi immaginiamo di svegliarci con il rumore della servitù nelle camere accanto alla nostra nostra stanza da letto di svegliarci dolcemente con questo cinguettio i versi che si sussurrano nelle altre stagioni i versi dei servi che sussurrono nelle altre stanze e aprendo gli occhi scorgeremo di fronte a noi un enorme e bellissimo affresco che rappresenta non tanto un bosco una natura ma bensì un cortile con alle spalle un enorme città cosa vediamo subito cosa attira la nostra attenzione questo cortile con le piante delle colonne con delle statue enormi crateri greci e al centro una grande porta chiusa rossa oltre questa porta abbiamo una edicola con al centro la scultura di ecate che la dea della magia la dea della notte quindi la dea dei sogni e la dea anche delle connessioni con il mondo ultra terreno il mondo della necromancia però questa questa scultura questa statua che così collegata con questo mondo tonio in realtà è circondata dalla visione metropolitana di una città vediamo infatti balconi e finestre colonnati è proprio un enorme colonnato che circonda interamente tutto il grande affresco questo colonnato richiama evidentemente ai grandi fori della capitale quindi fondamentalmente noi ci stiamo svegliando guardando la città guardando la città per antonomasia guardando roma e la domanda sorge a questo punto spontanea perché se io sono un ricco romano voglio svegliarmi guardando la città e non invece magari come faremo noi oggi contemporanei con una vista panoramica perché voglio ribadire nello sguardo privato della stanza da letto il mio rapporto con la città forse per capirlo dobbiamo cercare di ancora di immaginarci diversi comunque da quello che siamo adesso ma da quello che io sono cioè immaginiamo di essere un ricco imprenditore di provincia magari della brianza metti caso o in un'altra parte dell'italia che non sa in una metropoli ma sta in campagna allora lui cosa vuole della vita cosa voglio io giovane imprenditore beh diventare ricco e qual è il simbolo della ricchezza naturalmente i grattacieli americani quindi in questa rappresentazione c'è proprio un'idea desiderante di uno spazio che lo spazio del potere che lo spazio del potere della bellezza della cultura che lo spazio del futuro dove si proietta la vita di ogni buon romano che vuole compiere con cura e con amore per la sua per il suo casato tutto il famoso e celebre cursus honorum questo spazio che è uno spazio esterno dipinto una camera da letto nel cubicolo tra parentesi si trova se avete voglia di vederlo dovete fare un po di strada perché è stato staccato e venduto ai primi del novecento e si trova adesso al met al metropolitan art museum di new york però questo questa visione privata della cam della camera da letto di un ricco romano ci permette di fare una digressione intorno alla pittura romana la pittura romana viene divisa dagli storici dagli archeologi in primo secondo terzo e quarto stile questi stili sono in realtà tutti accomunati da un fil rouge cioè rappresentano qualcosa che si apre sulla parete sono tutti stili illusionistici fingono qualcosa che non esiste e sono praticamente delle finestre sono delle finestre su uno spazio oltre oltre il muro e questa è una cosa molto molto interessante perché di fatto i quadri non sono forse delle finestre i quadri non sono forse uno spazio per guardare oltre il nostro muro per andare oltre la parete bianca nelle nostre case quadrangoli diretti angoli quanto grande io voglio è il quale reputo essere una finestra aperta sul mondo per donde io miri quello che ivi sarà dipinto queste sono le parole di leon bartista alberti che nel suo celebre tattato sulla pittura del 1435 inventa una definizione che è celebre cioè la pittura è una finestra sul mondo è una definizione che viene da uno degli elementi più illustri della letteratura artistica italiana e mondiale ma che in realtà diremo quasi descrittiva cioè il fatto è una descrizione di ciò che è stato e continua a essere anche durante il medioevo questa tensione al muro come finestra attraverso la pittura ha già numerosi illustri esempi a parte il fatto che la fresco è appunto la tecnica che si realizza soltanto sui muri ed è quella prevalente di tutta l'arte per esempio medievale però ha anche delle come dire dei momenti aurei che sono anche momenti di svolta per la pittura occidentale in generale e sto pensando adesso a una specie di grande cinematografo pittorico sto pensando a quel grande cinema che è la cappella superiore di assisi dedicata appunto a san francesco che fu dipinta da giotto e dai suoi allievi tra il 1292 e 1296 entrando nella basilica noi siamo accolti da un'unica navata che è completamente istoriata e dipinta da grandi rettangoli dentro i quali si svolgono le scene della vita del santo si tratta appunto della bibbia dei poveri come giustamente si diceva a quel tempo ricordiamoci che durante il medioevo durante tutto l'evo moderno che in italia fino al concilio vaticano secondo quindi fino al 1962 la messa era detta il latino e in più è stato per molto tempo vietato leggere direttamente le sacre scritture quindi quello era lo spazio in cui la fede la chiesa comunicava le sue idee le sue storie ai fedeli è un'idea totalmente estetica totalmente visiva noi per parlare della nostra la nostra questione delle città che si vedono nei quadri dobbiamo soffermarci o almeno proviamo a soffermarci su un particolare riquadro su una particolare storia che è la cacciata dei diavoli da da arezzo è una parte della leggenda major la leggenda che racconta la vita di san francesco e qui vediamo subito qualcosa di straordinario innanzitutto il santo inginocchiato con l'aureola e acconta a lui il suo compagno che col pugno alzato si rivolge ai diavoli che volteggiano su arezzo arezzo è rappresentata come una specie di presepe è cinta di un muro possente e bianco noi vediamo due porte e sopra la città ci sono dei diavoli dei diavoli che appunto scompostamente cercano di sfuggire dalle alte torri della città ricordiamoci una cosa molto importante per il medioevo italiano specialmente per il medioevo italiano centro settentrionale che anche dentro le città le case erano fortezze sorta di spazi militarizzati per questo non abbiamo le case le celebri case torri perché dentro quelle case durante i frequenti rivolgimenti le frequenti liti tra le varie fazioni politiche spesso si arrivava allo scontro militare e quindi ogni clan ogni famiglia si costruiva la sua casa con la torre più in alto quindi questi diavoli con queste torre rappresentano anche l'estrema animosità delle città medievali scacciate grazie alla preghiera del santo e alla sua buona novella ricordiamoci anche che due personaggi illustri come dante come boccaccio hanno visto le loro famiglie esiliati da firenze proprio perché appartenevano alle famiglie sbagliate che si contendevano il dominio dei comuni i comuni italiani sono stati il motore del grande duecento e anche del trecento della stagione aurea della civiltà italiana che è appunto quella dei comuni che dal punto di vista economico è stata splendida anche dal punto di vista culturale è stata fiorente però è stata altrettanto travagliata dal punto di vista sociale politico e quindi anche militare nel questo affresco vediamo alle spalle del compagno di san francesco una cattedrale le absidi anzi l'abside di una cattedrale gotica che svetta più alta naturalmente della città di arezzo però c'è da fare un appunto san francesco non si trova dentro la città né dentro la cattedrale nella cattedrale ha il suo ingresso di volto verso di noi noi vediamo le absidi ed è importante questo secondo me simbolicamente perché l'abside è il luogo in cui si conserva l'eucarestia che è il corpo di cristo e contiene quindi la rivelazione evangelica e di fatto la posa di san francesco inginocchiato nella preghiera è sintomatica lui non sta dentro la città non sta dentro la chiesa sta dalla parte della chiesa ma inginocchiato la sua è una rivoluzione di fatto san francesco è stato l'iniziatore dell'umanesimo italiano la sua rivoluzione religiosa e di fede è stata capitale per tutta la cultura italiana non dimentichiamo che san francesco deriva deve il suo nome al fatto che la madre francese fosse imbevuta di quella cultura delle corti e che del che è di fatto la stessa del dolce stinovo una cultura fatta di musica di lievità di dolcezza che è tutto il contrario di quella cultura cavalleresca militare fatta di guerre di massacri di stupri che funesterà tutto il medioevo francesco è anche un rivoluzionario però della chiesa perché di fatto è equidistante sia dall'ascetismo cenobitico dall'estremo rigorismo eremitico delle origini di basilio e di san benedetto ma è anche ugualmente distante dalla deriva laica dal materialismo cavalcante degli ordini cenobitici degli ordini monacali che di fatto erano anche loro molto coinvolti nelle faccende terrene le faccende politiche la sua è una visione completamente diversa una visione spirituale religiosa e quindi conseguentemente anche politica intellettuale che pone nell'uomo la prospettiva il fuoco centrale del mondo la prospettiva è centrale nei ragionamenti che faremo adesso intorno a tre celebri dipinti sono tre oli su tavola purtroppo dispersi in tre diversi musei che sono comunque accumulati da alcune caratteristiche molto simili iniziamo subito con la prima che è detta la città ideale ed è conservata conservata alla galleria nazionale delle marche a come dicevamo due gemelli una ha conservata al walters art museum di baltimora è un'altra conservata alle gemalti galleri di berlino allora noi parleremo di quella conservata conservata al museo di urbino e di quella di baltimora che cosa rappresentano beh intanto quella di urbino già le misure sono sempre importanti in questo caso lo sono ancora di più ci fanno capire siamo di fronte a una specie di orizzonte la tavola infatti è alta 68 centimetri ed è lunga circa due metri e mezzo questa visione da una spazialità straordinaria e noi attraverso il pittore ci troviamo al centro di una piazza di fronte a noi abbiamo questo edificio circolare che sembra un po a metà fra un battistero e il tanteon la pianta di questo edificio è detta si pianta centrale in realtà appunto una pianta il cui fondamento è una circonferenza che è la figura appunto fondamentale dal punto di vista anche platonico filosofico di tutto il rinascimento accanto a questo edificio abbiamo due prospettive scorciate con una serie di isolati in fondo a destra vediamo una chiesa di cui intravediamo l'ingresso principale la navata di destra ma di cui immaginiamo anche quella di sinistra la visione è perfettamente naturale è preceduta da due grandi pozzi sagonali però non è un progetto architettonico seppur l'architettura qui è rappresentata secondo una consapevolezza che fa presupporre un lavoro fra l'autore anonimo è un architetto questa è una visione ideale in cui la città sembra come addormentata sugli balconi abbiamo le piante e le i vasi con gli alberelli c'è al terzo di serato sulla sinistra anche l'insegno di una locanda più avanti un ingresso con una pianta che si affaccia è una grande veranda con altri arbusti e poi le finestre che sono hanno quel ritmo naturale di aperto e chiuso che è tipico di una fotografia in cui per miracolo non c'è nessuno ma è tutta l'atmosfera di questo dipinto che è proprio meridiana sa proprio di pomeriggio mediterraneo sia per la luce terza limpidissima chiarificatrice in cui nulla fondamentalmente in ombra sia per questa vita assente che c'è ma non si vede se noi per un attimo facciamo silenzio riusciamo a sentire il rumore delle case le persone che si chiamano una donna che chiama un bambino sentiamo la vita svolgersi dentro quelle mura forse sembra appunto un pomeriggio d'estate dove il sole picchia e la gente si nasconde dentro dentro gli edifici non conosciamo come dicevo gli autori di questa bellissima rappresentazione di città non conosciamo gli autori di questa città ideale possiamo dire però che sicuramente era un pittore italiano dell'italia centrale sono stati fatti tanti nomi piero della francesca perugino laurana però ciò che ci interessa particolarmente il fatto che questo dipinto viene dal monastero di santa chiara e a quanto pare fu portato lì da una delle figlie del duca di montefeltro un uomo certamente politico ma militare ma anche amante dell'arte della cultura e che si circondava come molti duchi e principi dell'epoca di una corte fatta di intellettuali questa rappresentazione della città è quindi una rappresentazione di come il potere del rinascimento immagina lo spazio in cui si esercita questa autorità è un modello edenico matematicamente geometricamente subordinato alla prospettiva che in realtà un mezzo simbolico per impossessarsi dello spazio e per fingere uno spazio reale all'interno di una superficie bidimensionale però il modello a parte la tecnica e a parte la prospettiva come elemento simbolico il modello però è ancora una volta roma il modello della città ideale è ancora una volta la possente città di roma allora noi per andare ancora oltre dobbiamo guardare a una altra bellissima tavola ripinta ad olio che è quella conservata come vi dicevo a baltimora in questa tavola è rappresentata fondamentalmente una ideale cartolina dei monumenti mi sarebbe da dire l'italia però partiamo andiamo con calma partiamo dalla della nota più interessante un uomo che è la prima figurina che vediamo passa davanti a noi è un bastone è un otre sulle spalle potrebbe essere il tempo che passa questa è una mia suggestione oltre al centro del dipinto una fontana con l'acqua che sgorga la fontana è il simbolo della vita a questa fontana si stanno accostando due donne tra i due maestosi palazzi dalle proporzioni matematicamente perfette totalmente rinascimentali ancora oltre abbiamo il colosseo è una piccola folla attorno a un uomo vestito di nero e il nero è sempre simbolo di autorità accanto al colosseo una versione pittorica dell'arco di costantino e accanto all'arco di costantino un ancora una volta un edificio che ricorda molto da vicino il battistero di firenze in fondo proprio in corrispondenza dell'arco centrale del l'arco di costantino un palazzo che sembra una via di mezzo fra il castello sforzesco di milano e quello estense di ferrara al centro della piazza quattro colonne con quattro figure allegoriche questa è una città ideale che però si nutre direttamente un modello del modello per eccellenza che appunto quello romano siamo ritornati a roma come una specie di gioco dell'oca eccoci nuovamente al punto di partenza così si conclude la prima puntata di memento smile dedicata alle città che si vedono nei quadri io vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata settimana seguente è dedicata appunto al rinascimento e alla visione delle città nell'ambito del rinascimento maturo vedremo tantissime cose molto belle se avete voglia approfondire sul sito www.radioantidoto.org potrete scoprire e vedere anche le immagini che hanno ispirato questa piccola discussione intorno alle città che si vedono nei quadri una buona giornata buon weekend a tutti e arrivederci